ciao a tutti eccoci di nuovo qua never ending movie alla sua quarta puntata oggi vi parliamo di resident evil the final chapter ovvero l'ultimo capitolo che va a chiudere la saga di questi film dedicati a uno dei videogiochi più famosi della storia almeno per quello che mi riguarda il luogo perfetto per il finale di questa saga non può essere altro che raccon city per cui vedremo elise tornate da dove in tutto è iniziato ed affrontare in maniera definitiva l'ombrella che però sembra gli abbia riservato una super sorpresa in pratica pronta ad un attacco finale per distruggere il mondo finalmente una volta per tutti quindi vedremo come andrà a finire anche per resident evil the final chapter abbiamo quattro versioni il classico dvd blu ray blu ray steelbook a due dischi quindi abbiamo un disco aggiuntivo con dei bonus aggiuntivi logicamente e la versione 4k ultra hd ma lo vedremo meglio nell'unboxing che ci farà antonio il dvd ha due contenuti speciali il primo si chiama esploriamo l'alveare e ci mostra un po come è fatto come costruito questo alveare che vedremo nel film mentre il secondo ha un titolo un po più complesso che vi leggo la trinità tosta e le donne di resident evil in pratica ci mostra un po l'eredità che vogliono lasciare queste attrici con i loro personaggi a tutto il popolo femminile nella versione classica blu ray abbiamo ben cinque contenuti speciali a differenza del dvd appunto che ne ha soltanto due in più ci sono acrobazie e armi quindi abbiamo un inserto dedicato esclusivamente a quello che riguarda gli stunt e le armi utilizzate nel film e poi abbiamo un'anteprima per quello che riguarda resident evil vendetta che è un film in cgi che è attualmente in produzione e poi abbiamo modalità rappresaglia con paul e mila in pratica ci smonteranno le scene ci saranno loro due in scena che si racconteranno come sono state realizzate alcune scene d'azione eccetera eccetera durante la storia l'edizione limitata invece in steelbook contiene due dischi con più di 30 minuti di contenuti speciali in aggiunta che ha solo questa versione oltre ai cinque contenuti di cui abbiamo già parlato per quello che riguarda il blu ray questa versione steelbook ha un inserto dedicato alla regia per cui come paul ws anderson ha curato la regia di questo ultimo capitolo di questa famosissima saga abbiamo un inserto dedicato alla modella giapponese rola che interpreta il personaggio di cobalt e come ultimo anche avremo una trasposizione un contenuto che ci mostra come dal copione si arriva fino allo schermo quindi decisamente un'edizione interessante resident evil the final chapter si presenta in versione on video nelle classiche quattro versioni che troviamo solitamente per cui il dvd disco singolo ovviamente il blu ray disco singolo questa bella edizione limitata steelbook con doppio disco blu ray e la classica versione ultra hd 4k in blu ray la versione dvd e come al solito limitata con meno contenuti speciali rispetto alle edizioni blu ray all'interno troviamo il classico singolo disco e nient'altro però almeno una bella stampa anche interna alla custodia la versione blu ray singolo disco classica alla custodia blu che a cui siamo abituati sul retro troviamo tutti i contenuti speciali diciamo base per così dire come vi ha già spiegato robbie e all'interno singolo disco blu ray e anche qui una stampa interna che si che si intravede in trasparenza su la custodia blu la versione steelbook di questo film è forse la più interessante perché è un'edizione limitata con ben due dischi blu ray al suo interno togliamo la sovracopertina andiamo a vedere un po come si presenta tutta così sul nero e anche sul retro vedete così sul nero molto bella all'interno troviamo il doppio disco come vi dicevo quindi il disco blu ray del film ma anche sotto un bel bonus disc con dei contenuti speciali aggiuntivi proprio specifici di questa edizione steelbook la versione blu ray ultra hd 4k si presenta molto simile alle altre con la sua bella custodia nera sul retro indicati tutti quanti i contenuti speciali base che sono inclusi all'interno troviamo il classico doppio disco per cui sia versione 4k ultra hd che versione classica blu ray tra virgolette normale come sempre se volete comprare una di queste versioni oppure tutte le versioni potete tranquillamente andare al punto media world più vicino a voi e scegliere quella che volete ciao a tutti abbiamo finito anche questa puntata di never ending movie vi salutiamo sempre qui da direi che non è proprio qui ciò che è stato fatto ciao a tutti 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 Grazie a tutti.